Grazie, ci siamo, ci siamo. E' stata una settimana importante, perchè abbiamo fatto un tiro, un lavoro qui, tutti insieme, che ci siamo potuti conoscere sotto un aspetto un po' umano e condividere tanto tempo da Tranda alla Sena dopo un campo e capire un po' il significato dello stare insieme. La Sesta è sempre stata benissimo per questo nostro ritiro, una palestra, un bellissimo palazzetto, un buon lavoro, immediatamente a fianco, un campo da calcio, un gran soltanto per lavorare, un buon preparatore. Abbiamo cercato di mettere chiaramente, come si è visto, tantissimi concetti offensivi, forse addirittura troppo per la partita di raggiungere tutti, fare in modo che ci fossero sempre delle soluzioni, delle soluzioni, perché potremmo adesso avere qualche cosa di importante e di essere proibili. Difesivamente non abbiamo fatto nulla ancora, però direi che è una buona settimana dove avessi visto le qualità dei giocatori ed è buona anche per me poter risfruttare l'attività nel prossimo. L'obiettivo prendo la voglia di passarsi la palla, di stare attenti a qualche piccolo particolare come l'angolo dei blocchi, come aspettare gli spazi che in cui giù si può poter usare. C'è stata la volontà da parte di tutti di passarsi una palla nell'eseguire, nel mettersi in mostra. Siamo partiti un pochino bloccati, anche un po' da devozione, di giocare la prima partita un po' dal nostro pubblico. Di là c'è stato Michael che ha fatto veramente vedere di che pasta è fatta, tra l'altro Michael fu io che lo portai in Italia, nessuno se lo ricorda, però io lo portai a Pesano due mesi, noi abbiamo scelto l'università, perché se aveva avuto lo Slade, Pesano lo Slade non era avuto. E quindi Michael è meglio che ci sono gli allenamenti con noi, non c'è quale partita, perché era proprio la fine prima di prima, però, insomma, talento, visione, conosce il gioco benissimo, quando poi abbiamo iniziato un po' ad adeguarsi, chiaro che è stato difficile per lui, però la mentalità di andare avanti, di provare a vincere tutti i quarti, anche l'ultimo è stato sicuramente positivo. Come location sono vicino a Sestola, il pubblico ha risposto già presente alla prima uscita stagionale dell'Oroi. L'ho già letto, non voglio prendermi troppo, si inspira, ho una voglia di basso per la gente, il ragazzo lo sa, io lo spermento a casa, ma è, ha sbagliato più i due liberi, quando è iniziato a partita, questa è che guarda avanti. Comunque, quando è emozione di allenare, ma soprattutto giocare con questa maglia, questo pubblico, questa voglia di fare bene. Io credo che questi ragazzi, per questa settimana, è andato dentro tanto, quindi era molto propositiva, il cammino è lunghissimo, però speriamo sempre di essere nella stessa. La prossima settimana come si svolgerà, quali sono i programmi in vista del torneo di Olvia? Beh, intanto ci vendiamo al 99,9%, quindi troverà completamente Filippo Valdirossi, che già avrebbe potuto giocare questa partita, abbiamo preferito fare un lavoro differenziato del preparatore. E niente, lì caricheremo ancora, onestamente non si interesserà più di tanto il torneo, dobbiamo caricare ancora un pochino sull'aspetto fisico, incominciare adesso dentro qualche regola diffissiva, e poi andiamo a giocare in torneo di Olvia. Una cosa sola, Cravis e Quali hanno giocato molto insieme, perché mancava Valdirossi o è stata una scelta precisa su cui state lavorando? No, effettivamente perché mancava Valdirossi, però è chiaro che questo è un'arma che ci vuole dire utile, perché io credo che questa squadra quando avrà i suoi meccanismi, quando avrà una conoscenza, un'identità, possa poi essere abbastanza più di camaleonti, che nel senso che potremmo giocare due due insieme, potremmo giocare con Valdirossi da 5, nei tempi martini da 4, potremmo fare 3 punti insieme, potremmo fare tante cose, oggi abbiamo preso l'occasione, visto che chi comincerà, giocare insieme, credo che difensivamente Ian possa marcare tranquillamente tutti i 4, per fare un'idea, o pensivamente anche il Dott. Ryan, o il Dott. che abbia, possa anche darci qualcosa da quale, quindi perdendoci un problema, però c'è talmente tante, sono talmente dall'inizio che sono tutte su produzione. Grazie mille, grazie.